Linea Blu nell'ultima puntata annuale del 23 settembre su Rai 1 ha dedicato un lungo e bel servizio sull'Isola d'Elba grazie anche all'invito e al lavoro svolto dal comitato promotore del premio letterario Brignetti Isola d'Elba. Un'occasione per comunicare come la cultura a 360 gradi si coniuga con ambiente, mare, spiagge, ma anche miniere, granito, panorami, con le eccellenze ilbane, insomma tutto ciò che fa Elba. Immagini spettacolari e contenuti mirati hanno raccontato la terza isola italiana. Una puntata speciale l'hanno definita i conduttori Donatella Bianchi e Fabio Gallo, cogliendo appieno lo spirito del comitato promotore che mirava a considerare la cultura quale centro motore della comunicazione dell'Elba fuori dai confini isolani. L'invito a Linea Blu è stato un veicolo importante per lo scopo. 1.521.000 spettatori con l'11,5% di share. Così le immagini spettacolari della villa napoleonica di San Martino, di giorno e di sera, animati dai revocatori napoleonici. Le interviste al vincitore del 2023 Paolo Giordano, al conduttore Attilio Romita e al presidente del comitato organizzatore Roberto Marini hanno creato il filo rosso tra le varie parti della trasmissione visibile anche in streaming su Rai Play.